ciao billy! ciao charlie! questo nuovo edificio sarà impressionante! oh oh che succede? attenzione! charlie? billy cosa facciamo? charlie è intrappolato! hai ragione! super truck può salvarlo! lui può fare qualsiasi cosa! guarda carl! è il segnale dei fuochi d'artificio! qualcuno ha bisogno del tuo aiuto! bravo! 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 Grazie a tutti. Wow! È fantastico, Carl! Sei un trapano gigante! Andiamo, Super Truck! Charlie ha bisogno di te subito! Billy, Super Truck è qui per aiutarvi! Non preoccuparti, Charlie! Ti tireremo fuori di lì in un battibaleno! Cosa farai? Certo! Puoi scavarti la strada verso Charlie! Fermo, Super Truck! O il resto dell'edificio cadrà addosso a Charlie! Non possiamo raggiungerlo in questo modo! Dove stai andando? Ah, stai entrando da sotto! Geniale! Tieni duro, Charlie! Abbiamo un piano! Super Truck sta scavando un tunnel per arrivare fino a te e portarti via! Sta funzionando! Eccellente! Eccoti qui! Sei al sicuro ora, Charlie! Ottimo lavoro, Super Truck! Super Truck! Hai salvato la situazione ancora una volta! No, Billy! Non so neanch'io dove sia andato Super Truck! Arrivederci, amici! A presto! Ciao, Sam! Wow! Hai molta neve da spazzare oggi! Guarda quanti veicoli aspettano che tu sposti la neve per poter passare! Ci sono anche Lily e Amber! Ciao, Lily! Ciao, Amber! Ci credete quanta neve abbiamo avuto? Di sicuro è arrivato l'inverno! Oh no! Sam! Sei là sotto? Non lasciarti abbattere, Sam! Avrebbe potuto accadere a chiunque! Oh no, Amber! C'è un'emergenza fuori città ed un veicolo ha bisogno di te! Come farai? Non puoi andare avanti qui con tutta questa neve! Hai ragione, Lily! Sam ha bisogno di aiuto! Dovremmo chiamare Super Truck! Ancora, Sam ha bisogno di a scopo! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Wow! Siamo nella tua mitica grotta delle trasformazioni! Sai già in quale veicolo ti trasformerai? Oh! Un super spazzaneve! Ovviamente! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Wow! Guardati Super Truck! Torniamo subito dagli altri in modo da aiutare Sam con la neve! Ciao! 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 non ti preoccupare Sam stai facendo un ottimo lavoro supertruck può spazzare via molta neve rapidamente ma tu sei bravissimo a fare altre cose come spazzare questo marciapiede ad esempio supertruck è troppo grande per spazzare questo punto ma tu sei della dimensione perfetta fantastico Sam grande lavoro di squadra ragazzi avete sgomberato quasi tutta la strada ora è il momento di giocare vai a casa adesso supertruck ok grazie per aver salvato la situazione ehi chi è stato arrivederci a tutti alla prossima supertruck ehi penne che bella giornata per volare guarda c'è Hector Penny voleva mostrarti un esercizio che stava facendo che cos'è possiamo vedere qualcosa non va attenzione a quell'edificio oh no non ti preoccupare andiamo a cercare supertruck lui ti salverà dobbiamo premere il pulsante per chiamare supertruck carl penny l'aeroplano è in difficoltà puoi aiutarci è bloccata sul tetto di un edificio bisognerà che tu salga fin lassù per aiutarla a scendere questo no ok andiamo avanti è questa la trasformazione che vuoi ah capisco diventerai un camion d'arrampicata ah capisco diventerai un camion d'arrampicata ah capisco diventerai un camion d'arrampicata sei pronto carl voglio dire supertruck andiamo wow che trasformazione formidabile guarda Hector c'è supertruck stai tranquilla penny supertruck ti farà scendere attento carl non andare troppo forte ottimo lavoro adesso riportiamo a terra penny poi stai più ben fatto super truck arrivederci alla prossima penny puoi volare con un po' più di attenzione la prossima volta bene a presto amici ciao bambini sembra che vi stiate divertendo oggi è carino da parte tua baby tom oh no che cosa è successo allo scivolo qualcuno in questa settimana sta rubando le attrezzature del parco giochi è terribile bella idea baby katie super truck può scoprire cos'è successo guarda carl fuochi d'artificio è tempo di andare guarda carl guarda carl guarda carl guarda carl Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a scoprire chi sta rubando le attrezzature al parco giochi. Buone notizie, bambini. Superprac è qui. Ecco, però, non sembri tanto cambiato questa volta. Dov'è il trucco? Ah, sei un camion camaleonte. Eri quasi scomparso. Strabiliante! Nascondendoti riuscirai a sorprendere il ladro in azione. Dovreste andare tutti a nascondervi, bambini. E' Tommy il carro attrezzi! Seguilo, Supertruck! Wow, Supertruck! Sei praticamente invisibile! Che cosa starà facendo? Oh, sembra che Tom abbia ridipinto tutta l'attrezzatura. Tom, stavano tutti cercando le attrezzature del parco giochi. Sai che non dovresti prendere le cose senza prima chiederle. Sappiamo che stavi cercando di fare una cosa gentile. Che ne dici di riportare tutta l'attrezzatura al parco giochi oggi stesso? Wow, Tom! Hai fatto veramente un bel lavoro! Il parco giochi è molto più bello adesso! Hai ragione! Dove sarà andato Supertruck? Complimenti, Supertruck! Hai risolto il mistero! Arrivederci, bambini! Divertitevi! Ciao, amici! A presto! Ciao!